Si sta consolidando una dittatura di carattere finanziario che è divenuta prima ordinamentale negli anni attraverso i trattati europei che hanno di fatto disapplicato la nostra Costituzione e questa dittatura che pian piano si è consolidata oggi comincia ad assumere anche i caratteri propri delle vere dittature del passato e infatti si arrivano a calpestare poi definitivamente quei diritti che davamo per scontati. Lo si fa come spesso accade in nome della paura ma in fin dei conti questo è stato un po' tutto il motivo principale per cui siamo arrivati fin qui perché anche quando ti dicono dobbiamo fare questo perché non ci sono i soldi, dobbiamo fare questa riforma per questo motivo perché se no falliamo. È sempre stata la paura la leva. È chiaro che fino a che erano paure finanziarie come quando era arrivato Monti eccetera il discorso era un pochino più blando. Oggi che sono diventate invece paure effettive di addirittura morire beh la dittatura ha accelerato in modo esponenziale però i suoi semi, le sue basi sono cominciate effettivamente in maniera proprio giuridica nel momento in cui poi è caduto il muro di Berlino. Questo perché poi fondamentalmente tornando un po' indietro nel tempo perché comunque il blocco comunista di fatto era un freno all'ideologia liberista perché poi questo è stato il grande scontro ideologico che si era verificato. L'ideologia liberista c'è quella teoria secondo il quale il mercato ha lasciato libero a se stesso riesce a redistribuire ricchezza, a generare il massimo sviluppo possibile, il massimo benessere per le popolazioni e quant'altro. Ovviamente è una gigantesca idiosia. Io spesso faccio l'esempio del Monopoli per spiegarlo perché è davvero eclatante. Se si gioca a Monopoli e non c'è una redistribuzione della ricchezza alla fine la partita finisce con uno che ha tutto e gli altri che falliscono. Nel mondo reale quando si sposa l'ideologia liberista cioè dell'assenza di ridistribuzione della ricchezza, dell'assenza di disciplina, coordinamento e controllo dello Stato nell'economia è il risultato poi effettivo esattamente questo. Sempre più poche persone acquisiscono grandi fette del patrimonio, grandi fette di ricchezza e a un certo punto nel mondo reale diventano anche un potere politico. Ovviamente l'ideologia liberista che era già molto forte, oltreoceano, Gran Bretagna, chiaramente Stati Uniti dove poi fondamentalmente è nata, era estremamente forte anche prima ovviamente della caduta del blocco del muro, però prima della caduta del muro c'era la necessità quantomeno in ambito sociale, in ambito di diritti fondamentali di garantire quel qualcosa che non facesse spostare i cittadini verso l'altro blocco, il blocco rivale. Per questo noi abbiamo vissuto effettivamente dal 48, dalla nascita della nostra Costituzione fino appunto alla caduta del muro di Berlino un periodo di grande benessere perché tutto sommato abbiamo applicato il nostro modello economico misto di uno Stato che era protagonista nell'economia, di uno Stato che mia di principio comunque redistribuiva ricchezza, che la creava e quindi che ci ha garantito quel benessere, quello sviluppo insomma che ben abbiamo conosciuto più o meno tutti quanti. Poi succede che il blocco rivale dal punto di vista ideologico crolla, da lì in poi il liberismo non ha più bisogno di mascherare il suo vero volto e si comincia a fare questo progetto di fatto che è di carattere dittatoriale, di conquista come sempre nella storia dell'umanità, di arrivare a riportare tutti noi a essere dei semplici sudditi e loro a riprendere pian piano un potere via via assoluto e questo lo hanno fatto con delle regole, con delle leggi, con quello che è il trattato di Maastricht con cui si raggiungeva immediatamente un obiettivo molto chiaro, quello di fare in modo che lo Stato perdesse il suo ruolo da protagonista in ambito economico, venisse retrocesso a livello di qualunque altro soggetto e operatore privato del mercato, perdesse chiaramente la sovranità monetaria perché poi da lì a poco saremmo entrati nell'euro e fosse oltretutto anche limitato nella facoltà stessa di indebitarsi, indebitarsi oltretutto in una valuta che poi chiaramente persa la sovranità monetaria non era pure neppure quella che poteva emettere da solo. Risultato di questa aggressione, cioè di vieto di intervento dello Stato in economia, parametri di bilancio ben noti che conoscete fin da allora, 3% e compagnia bella, deficit pill, parallelamente all'impossibilità chiaramente di detenere la sovranità monetaria, hanno consentito di creare un meccanismo che via via anno dopo anno ci impoveriva. In sostanza infatti l'Italia dalla stipula del Trattato di Maastricht ha fatto quello che tecnicamente si chiama avanzo primario, l'ha fatto praticamente sempre senza soluzione di continuità, cioè cosa vuol dire? Quando lo Stato ha il netto degli interessi passivi sul debito ogni anno tassa più di quanto spende e banalmente, ma davvero banalmente la causa della crisi economica che abbiamo attraversato fino ad oggi, fino a quando poi siamo arrivati anche a questa emergenza, è stata legata esattamente a questo fattore, al fatto che ogni anno attraverso la pressione fiscale ci veniva tolto più di quanto lo Stato iniettasse via via nell'economia attraverso la spesa pubblica. Questo meccanismo perverso ovviamente ha pian piano ridotto la moneta circolante, i risparmi nelle tasche dei cittadini e ha creato una sorta di gioco del monopoli, tornando all'esempio di prima, invertito. Perché invertito? Perché con i parametri di bilancio imposti fin da Maastricht giochiamo a monopoli come se cambiando le regole disponessimo che quando si passa dal via ti tolgono soldi invece che dartene. E questo è stato il principio fondamentalmente che ha codificato una certa rotta per il nostro paese negli anni successivi, perché non si poteva effettivamente uscire da questo. È pur vero che spiegando completamente i sistemi macroeconomici dobbiamo sempre ricordarci che anche le banche commerciali espandono il credito attraverso l'attività di prestito. Cioè è un'attività effettivamente creativa dal punto di vista della base monetaria. Però è altrettanto vero che una banca commerciale per definizione, sì, all'atto del prestito crea integralmente o in parte in funzione degli accordi che ci sono, il denaro che poi ti viene a prestare, attività creativa. Ma è altrettanto vero che poi comunque tu glielo restituirai con gli interessi. Quindi in definitiva un prestito di una banca commerciale può aumentare la base monetaria circolante finché il monte prestiti complessivo aumenta anno dopo anno. Cioè un anno prestiamo 100, sappiamo che gli interessi sono 10, l'anno dopo se prestiamo più di 10 ti darò più di quello che dovrai ridarmi di interessi e più qualcos'altro. E così la base monetaria si espande. Ma nel momento in cui comunque io vado a restituire ti toglierò sempre qualcosa. È chiaro che quindi lo Stato che faceva avanzo primario, cioè che ogni anno ti toglieva qualcosa, ha retto per un po' comunque sia nel sistema finché le banche commerciali hanno fatto prestiti, facendo poi esplodere anche il problema del debito privato. Quando le banche commerciali hanno cambiato rotta, e questo è accaduto nella crisi poi del 2007, lo Stato in quella condizione non era più in grado di rispondere e da lì sono poi arrivate ulteriori scelte politiche che sono quelle della storia più recente per noi fino all'avvento di Mario Monti che, ricordiamolo sempre, quando fu messo presidente del Consiglio arrivava beatamente dalla presidenza europea di quella che è la Commissione Trilaterale. Ora, anche qui non è che vogliamo avere una visione complottista, ma comunque una visione realista. La Commissione Trilaterale è un'associazione di categoria dell'alta finanza. Se a un certo punto, in un momento di crisi, crisi dettata appunto dal fatto di non avere una possibilità di emissione di moneta, di liquidità, eccetera, governata da una banca centrale che in allora con Draghi e Trichet ci scriveva la famosa letterina dell'agosto 2011 in cui dovevamo fare le riforme che ben conosciamo, lacrime sangue, modifiche costituzionali, eccetera, in cambio del sostegno del debito. Arriva e viene imposto un uomo che arriva da quell'associazione di categoria, è chiaro che qualche domanda su cos'è questa associazione uno se la deve fare. Ebbè, questa associazione è quella che fu fondata da David Rockefeller negli anni 70 e aveva proprio come scopo dichiarato quello di consacrare l'ideologia liberista di cui vi dicevo, cioè di fare in modo che i soggetti privati, che in questo caso si alleavano all'interno di questa associazione, fossero in grado di sottomettere lo Stato facendo sì che lo Stato non potesse intervenire nei loro affari. Molto banalmente, qual è il problema di un privato che opera non ovviamente nella piccola e media impresa, ma che opera in grandi settori spesso sovranazionali, energia, finanza e quant'altro, che a un certo punto lo Stato ti può rompere le scatole, perché lo Stato se è tale ha il suo potere d'imperio sul territorio. Per essere più forte di uno Stato io ho bisogno che quel potere d'imperio venga cancellato, comunque evapori o comunque venga a volte ceduto appunto le famose cessioni di sovranità nazionale. E quindi si sono create queste sinergie del grande potere economico, dirette ovviamente a fare in modo che lo Stato, a un certo punto influenzato dalla loro forza, facesse quelle scelte legislative che gli toglieva la possibilità di ingerenza negli affari di questi signori. Anche lì, se pensiamo al complottismo, possiamo fare un salto indietro addirittura alla stesura della carta costituzionale e quando andiamo a vedere il nostro bellissimo modello economico, bellissimo se fosse applicato chiaramente, quindi in particolare l'articolo 41, 42, 43, il 47 sulla tutela del risparmio, tutte belle norme che sono codificate in maniera elegantissima, ma purtroppo disapplicate, ma comunque se andiamo a vedere perché sono state scritte così, scopriamo che i padri costituenti nel dibattito erano perfettamente consapevoli che il problema che addirittura scatenò la seconda guerra mondiale, le relative crisi economiche e quant'altro era proprio l'ideologia liberista e il fatto che gli stati avessero acconsentito che nelle mani di pochi si accentrassero grandi ricchezze e poi quei pochi, quando sono così forti, a un certo punto influenzano la politica, fanno scelte politiche che finiscono poi in definitiva per andare contro l'interesse collettivo e democratico. Questo è il contesto proprio in cui si sono formate queste regole e il contesto in cui stanno andando avanti. Allora già avevano la forza appunto di imporre un loro uomo alla presenza del Consiglio per fare quelle riforme che erano sempre mirate a fare un ulteriore passo avanti in questo meccanismo. Cioè perché ad esempio Mario Monti fu incaricato di fare una riforma che era considerata fondamentale dalle elite finanziarie, cioè l'inserimento del pareggio in bilancio in Costituzione? Perché il vincolo che fino allora era soltanto esterno all'interno dei statati europei, vincolo sul deficit di bilancio e quello che vi dicevo, diventava addirittura un vincolo interno alla carta costituzionale, con la possibilità quindi che l'ordinamento stesso non fosse più in grado di reagire anche di fronte a norme illegittime che arrivavano dall'esterno, perché a quel punto il problema ce l'avevi dentro di te. E su questo vi posso fare un esempio molto pratico degli effetti. Tutela dei disoccupati involontari. La Costituzione prevede di fatto in astratto una tutela illimitata del disoccupato involontario finché è tale. Articolo 38. Se tu inserisci il pareggio in bilancio, a un certo punto, un giudice potrà dirti, sì, c'è la tutela dei disoccupati, ma se io finisco i soldi, siccome c'è anche in Costituzione il pareggio in bilancio, e io devo rispettare quindi questo equilibrio tra entrate e uscite, se uno è disoccupato ma io non posso rispettare l'equilibrio tra entrate e uscite, il disoccupato si attacca e non ha più nessun tipo di assistenza. Ecco come il potere, l'ideologia liberista ha inserito volontariamente, approfittando di una crisi, piccole pillole avvelenate addirittura all'interno della Carta Costituzionale per fare in modo che sempre più lo Stato non possa fare l'intervento per cui era chiamato. D'altronde la nostra Repubblica aveva proprio degli obblighi da portare avanti, costituzionalizzati, cioè l'obbligo anche di garantire un'uguaglianza non solo formale ma sostanziale attraverso l'eliminazione di quegli ostacoli che impediscono ai lavoratori di svolgere la loro attività, un'esistenza libera, dignitosa. Quindi tutte quelle cose centrali che non erano enunciati vuoti, erano principi che potevano essere attuati ovviamente se lo Stato manteneva la sua sovranità e quindi il suo potere di interventi in economia è chiaramente il potere poi principale dell'emissione monetaria che era l'unico che rendeva lo Stato sempre sovraordinato a un privato, perché questo lo ha detto persino Zagrebelsky che ora magari ultimamente sul discorso Covid non ha brillato, ma in passato le cose le aveva dette chiare anche su questo, cioè quando uno Stato poi di fatto perde la sovranità monetaria non è più neppure qualificabile come Stato e viene retrocesso al ruolo di qualsiasi soggetto privato, perché non ha più il diritto di ultima parola, perché a quel punto opera esattamente come operano tutti gli altri soggetti. Se invece lo Stato è il detentore, il monopolista della moneta, capite che nessun privato potrà mai competere con esso e quindi il potere d'imperio è forte, è importante e torniamo al discorso di prima. Uno Stato forte non è gradito da chi ha grandi ricchezze perché ti rompe le scatole. Questo fastidio della democrazia che incide sulle tue decisioni e le tue scelte e questo non lo vogliono assolutamente. Della Costituzione se ne sono infischiati in maniera radicale, ma pian piano, passettino dopo passettino, sono anche riusciti ad inserire quei meccanismi anche all'interno che rendessero più difficile una reazione democratica del singolo ordinamento. Cioè senza il pareggio in bilancio in Costituzione magari qualche giudice poteva accorgersi che certe misure erano sbagliate, magari fare due ragionamenti sull'illegittimità stessa di aver ceduto la sovranità monetaria al SEB, cioè al sistema europeo delle banche centrali, come prevedono i trattati. Perché in quel caso magari potevano prendere in considerazione un articolo 47, la Repubblica disciplina, coordina e controlla il credito, e domandarsi ma se la Repubblica disciplina, coordina e controlla il credito, com'è tutto questo compatibile con una banca centrale indipendente sia dal Parlamento europeo che dai Parlamenti nazionali che non può prendere consigli dalla democrazia e che sceglie in autonomia le sue politiche monetarie. Dovresti concludere che così non è. E quindi ecco l'importanza di determinate fasi di crisi, di determinate scelte legislative che questi uomini hanno imposto sfruttando l'emergenza per blindare il loro potere e la loro forza. E questo è avvenuto per step. Non a caso anche la recrudescenza della crisi del 2007, quindi col problema da Lehman Brothers, eccetera, che poi il contagio, la crisi delle banche commerciali, avviene subito dopo che era successa una cosetta in Europa, che c'era stato il no alla Costituzione europea, che poi fu di fatto, era il testo di Lisbona fondamentalmente, però come Costituzione europea fu bocciata. E qual era il punto? Il punto era che se ci fosse stata una Costituzione europea, automaticamente le nostre Costituzioni nazionali erano retrocesse, ed era quello che volevano. Il momento in cui la Costituzione europea viene bocciata per il no che hanno dato francesi e olandesi, allora a quel punto automaticamente cosa succede? Parte una crisi per arrivare al medesimo risultato e imporre di traverso quello che non avevano imposto per dritto. La strategia è sempre stata sempre questa e sono stati pazienti negli anni, non è che hanno avuto particolare fretta, è stato un pian piano, un potere economico che diventa sempre più forte, che a quel punto ha la forza politica per imporre una serie di norme giuridiche per arrivare effettivamente a prendere il controllo. E oggi siamo veramente in una traiettoria che li vede trionfanti, perché se pensate che abbiamo Mario Draghi, Presidente del Consiglio, e Mario Draghi partiva come direttore del Tesoro nella fase delle privatizzazioni nazionali, quindi nel momento in cui si aveva la massima spinta legata alla crisi per poter svendere il patrimonio pubblico dello Stato e quindi indebolire lo Stato tagliando radicalmente la sua possibilità di intervento in ambito economico. Ritrovarsi questo personaggio che da direttore del Tesoro era salito sul panfilo Britannia, aveva ragionato in questi termini con questi gruppi del potere economico per la sventa dell'industria pubblica nazionale, ritrovarselo oggi in questo momento a Palazzo Chigi è veramente un cerchio che si chiude, un uomo che negli anni ha lavorato per le grandi banche d'affari, Goldman Sachs, che consiglia definire il ville liquidatore dell'industria pubblica italiana, ve lo ricorderete. Quindi c'è veramente un filo conduttore unico. Certo, siccome le cose non sono così semplici, anche queste sorte di complotti, il processo è stato molto molto lento, cioè si è andati avanti ogni volta un gradino alla volta demolendo diritti. Qualche volta c'è stata anche qualche frenata, poi pian piano nel fase dopo si è riusciti ad andare avanti comunque. Pensate a quando hanno anche tentato di togliere l'articolo 18, all'inizio le barricate sul governo Berlusconi, poi come sempre è bastata un'emergenza per poter forzare la mano e cancellare sempre più diritti per i nostri lavoratori. Oggi abbiamo un problema ovviamente clamoroso che quindi è una costituzione radicalmente disapplicata, che avrebbe ancora in sé gli strumenti per garantirci sicuramente di rinascere, di risollevarci, ma la sua disapplicazione è tale che tutti i meccanismi di difesa del sistema non stanno funzionando, non ci sono, non sono attivi. Basti pensare anche banalmente che uno dei problemi centrali della genesi europea è proprio chiaramente la cessione di sovranità nazionale e la Costituzione, che anche ne dicano, non acconsente alla cessione di sovranità nazionale. L'articolo 11 della Costituzione, spesso richiamato impropriamente, parla di limitazioni della sovranità nazionale, mai di cessioni. Limitare e cedere sono due cose totalmente diverse anche da un punto di vista linguistico. Limitare significa contenere l'esercizio di un potere che lo Stato conserva e quindi di fatto che conserva il Parlamento. Cedere invece significa prendere questo potere e darla a un'autorità esterna, su cui non ho più voce in capitolo. Cioè se io firmo un trattato domani mattina in cui decido che le mie emissioni inquinanti non devono superare una certa soglia, io mantengo la mia capacità di fare industria e la possibilità di pianificare un piano industriale. Semplicemente contengo determinate emissioni, cioè contengo determinate scelte, ma il potere resta a me. Se do invece c'è un terzo le chiavi della mia industria, per rimanere all'esempio, certamente sto cedendo la sovranità e questo è quello che è stato fatto pacificamente con la moneta, perché abbiamo ceduto sovranità monetaria, un'autorità indipendente che crea moneta dal nulla ma non la può dare agli Stati e che oltretutto fa comunque quello che gli pare. Oggi in emergenza siamo al colmo dell'assurdo di questo tipo di principio, perché noi avremmo anche a livello europeo una banca centrale che può tecnicamente creare tutti i soldi che vuole, Draghi l'ha detto più volte, ma non ricorriamo alla banca centrale perché le norme dei trattati vietano espressamente che questa banca possa fare facilitazioni creditizie agli Stati e rimaniamo all'interno di quelle regole che ben conosciamo, per cui in questo momento non c'è un'iniezione di liquidità neppure di fronte all'emergenza. Questo è chiaro perché viene fatto per il solito motivo, perché la crisi Covid, la crisi economica grave che la banca centrale potrebbe risolvere con un click, con un polsante premuto sulla tastiera, non deve essere risolta perché è lo strumento per fare ulteriori passi avanti sempre nella via dello smantellamento degli Stati nazionali. Quindi il quadro purtroppo è molto molto oscuro, poi tecnicamente magari se qualcuno vuol fare qualche domanda posso spiegare qualche passaggio, ma ritengo che sia quasi superfluo perché poi chi è qui già li conosce gli aspetti tecnici principali. Quello che bisogna cercare di avere in questo momento chiaro è che questa emergenza sanitaria non può essere vista in modo separato da tutto quello che c'è stato prima, perché appunto io non posso sapere ovviamente se il Covid sia qualcosa di frutto di una strategia precisa, cioè creato in laboratorio o meno, non lo so, non mi interessa, magari sicuramente forse no, però al di là di questo il punto centrale è che viene sfruttato per una grande accelerazione di questo progetto di distruzione degli Stati. Perché quando sempre Mario Draghi qualche anno fa mi diceva che bisognava distruggere, lo diceva in Parlamento, in seduta comune delle due Camere, dobbiamo distruggere le piccole e medie imprese, distruggere, bisogna portarle verso la chiusura perché non sono competitive, quindi invocando ovviamente l'arrivo dei grandi gruppi multinazionali a coprire anche gli spazi della piccola e media impresa, lo diceva appunto per uno scopo ben preciso e oggi questo tipo di crisi in cui tu tieni chiuse proprio quel tipo di attività consente di andare avanti esattamente in questo tipo di progetto, di eliminare tante categorie che avevano una certa indipendenza, perché essere comunque indipendenti economicamente significa avere anche indipendenza nel pensiero, essere invece dipendenti significa dover obbedire spesso a chi ti comanda, al tuo padrone, al tuo datore di lavoro. Quindi anche questa fase è strettamente collegata e oltretutto la dittatura a questo punto con la scusa, l'alibi della paura, del terrore, della malattia riesce a incidere anche su quei diritti che fino ad oggi erano rimasti comunque intoccabili o meglio te li toccavano indirettamente, cioè non ci sono i soldi quindi chiaramente non ti do una sanità adeguata, non avrai un lavoro, sei disoccupato e non ho la possibilità di intervenire, tutta catena, hai uno Stato a scatafascio, un settore pubblico che non funziona perché mancano i soldi per farlo funzionare, non va la giustizia, ci sono le buche nelle strade e tutto il resto, tutte le magagne che ben sappiamo perché lo Stato non ha i soldi per funzionare correttamente. Beh, in un contesto simile dove i diritti fondamentali erano perduti sul risupposto che mancavano i soldi, oggi andiamo oltre, non c'è più neanche bisogno di utilizzare l'alibi della mancanza di soldi per sopprimerli, ora utilizziamo direttamente la malattia e arriviamo al punto di dare i domiciliari a tutto il paese, a dirti devi stare in casa, quindi violare l'articolo 13 della Costituzione, devi stare in casa perché c'è questo tipo di pericolo, il domicilio inviolabile diventa violabile perché c'è questo pericolo, la tua attività la devi tenere chiusa perché c'è questo pericolo, cioè hai fatto uno step in più in quella privazione di diritti e stavolta effettivamente li hai colpiti non più indirettamente ma in modo assolutamente diretto, dimostrando il volto di una vera dittatura, perché attenzione, su questo dobbiamo riflettere, se io ti tolgo la libertà personale lo posso fare per qualsiasi motivo, anche a fin di bene, potrei essere veramente uno che ha una visione di insieme molto migliore di quella di chiunque altro e so che quello che sto facendo è la cosa giusta, ma comunque sto compiendo un atto da dittatura che solo un dittatore può fare e noi siamo una democrazia, la democrazia ha anche il diritto di sbagliare eventualmente, quindi quando si arriva a toccare questi principi fondamentali che devono essere considerati pacificamente intoccabili vuol dire che siamo veramente all'epilogo di un percorso e ci troviamo veramente di fronte a qualcosa di gravissimo. Ci sono anche sentenze che sono uscite su questo però sembra che ogni volta non siano neppure esistenti perché i media non le rilanciano, cioè le accennano ma non viene spiegato la gravità di un giudice che ti dice è indiscutibile che i PCM siano illegittimi, che la privazione della libertà personale sia venuta in violazione dell'articolo 13, cioè ti sta dicendo che di fatto lo Stato si sta comportando in questo momento per procura del grande potere economico come una dittatura vera e propria e tutti noi dobbiamo stare zitti, va tutto bene, chi se ne frega perché c'è il male più grande. Quindi rispetto ancora a questo punto a un anno fa, la situazione oggi è veramente in un rapidissimo deterioramento con una crisi oltretutto poi chiaramente conseguenzialmente anche economica che dà l'occasione, l'occasione d'oro a Draghi che esegue gli ordini, di provocare ulteriori cessioni di sovranità nazionale e di andare effettivamente verso quella creazione degli Stati Uniti d'Europa che perché sono così graditi al grande capitale? Perché ovviamente togli di mezzo alcune costituzioni continentali intanto che erano ancora troppo difensive dei diritti sociali, ma soprattutto vai a creare una nuova struttura che controlli più facilmente perché non hai più 200 teste con cui interfacciarti e quindi prevalentemente diventa più semplice per un potere economico precostituito avere una gestione e un controllo di una struttura più ampia rispetto ad una struttura più piccola e soprattutto è già un ordinamento che è strutturato per non essere democratico, perché l'Unione Europea banalmente non è un ordinamento che ha messo al centro, come avevano fatti i nostri costituenti, il Parlamento come fulcro della democrazia. Ora non lo è più perché si va avanti a colpi di decreti legge o addirittura la novità degli atti amministrativi che il Governo si è autodelegato da emettere, però al di là di questo la nostra formalmente era una democrazia parlamentare con il Parlamento che gestiva, che era il fulcro di tutto l'ordinamento. In Europa il Parlamento è un passacarte, sono i burocrati che hanno l'iniziativa legislativa della Commissione, il Parlamento non fa assolutamente nulla, quindi è già una struttura che è al riparo dai normali meccanismi democratici e verso la quale più cediamo ulteriore sovranità nazionale più ci spogliamo chiaramente della possibilità di ritornare ad attuare pienamente la nostra Costituzione repubblicana, che resta un documento di grandissimo spessore perché soprattutto le parti economiche che vi dicevo prima hanno in sé, se applicate, la ricetta per riprenderci davvero da questa situazione e di tornare a essere una vera democrazia. Quando parliamo di libertà dell'iniziativa privata, ma del divieto che questa si svolga contro l'utilità sociale, fissiamo dei principi fondamentali, quando diciamo che possiamo nazionalizzare qualcosa di interesse collettivo, mantenere un monopolio aborigine oppure successivamente riprendercelo sotto la guida pubblica, sono cose che sono nella nostra Costituzione ma che vengono disapplicate, come è stato fatto anche di recente per autostrade, mai preso in considerazione l'ipotesi dell'articolo 43. Il 42 è la stessa funzione sociale della proprietà, che questo implica che la proprietà ovviamente deve essere equamente distribuita, sono tutte norme che avevano una portata anche precettiva e che dovrebbero essere alla base del nostro modello di ricostruzione del Paese e purtroppo in questo momento sono completamente calpestate, cancellate e ovviamente più cediamo sovranità più rischiamo di superare il punto di non ritorno oltre il quale la nostra Costituzione non può più essere utilizzata come baluardo perché fondamentalmente non esiste più, perché a quel punto non ha più nessun valore, perché lo Stato, il nuovo Stato sovranazionale più grande è un'altra cosa, non sei più tu come Italia che non esisti più, tu diventi una regione di questo nuovo Stato, è facile prevedere che raggiunto l'obiettivo attraverso il Recovery Fund di ulteriori cessioni di sovranità nazionale, poi il regime che si va a consolidare imporrà dal punto di vista penale la sanzione per chi come noi vuole Little Exit, perché? Perché lo hanno fatto poi tutti nella storia, quando si crea uno Stato le spinte indipendentiste e secessioniste sono punite penalmente e l'Unione Europea farà poi la stessa cosa, quindi nel prossimo futuro è facile che un partito che ha come scopo quello di uscire dall'Unione Europea e riportare il Paese alla sua sovranità sarà semplicemente un partito fuori legge, questa è la strada che abbiamo intrapreso e purtroppo vi ribadisco, il Covid dà un'accelerazione che era impensabile, pensate anche ora passando di pala in frasca anche all'ultimo decreto legge sul discorso vaccinazione, anche qui comunque uno la possa pensare, con qualsiasi ragionamento che si possa fare anche sull'eventuale buona fede della multinazionale che produce il prodotto, che mi sembra assurdo pensarlo, ma facciamo conto che sia così. Vi sembra normale che in ogni caso un farmaco che ancora in fase di sperimentazione venga imposto coattivamente a delle persone, cioè sia cancellata la possibilità di scelta e che addirittura in questo contesto si dica se tu non ti adegui rimani senza stipendio direttamente, quindi pestando poi anche tutta una serie di diritti costituzionali fondamentali e che questo sia portato avanti addirittura con l'applauso delle popolazioni, cioè provvedimenti così, una volta erano ragionati e valutati come nazisti, cioè loro facevano gli esperimenti sulle persone e non è che il fine giustifica i mezzi in una democrazia, no? Quindi è evidente che abbiamo superato una linea rossa da cui diventa ogni giorno più difficile tornare indietro e probabilmente in questo caso l'ultima chance, ma veramente l'ultima, potremmo averla magari alle elezioni del 2023 cercando di mandare un gruppo di persone con un po' di voglia di lottare in Parlamento per vedere se si riesce a creare un'ultima forma di resistenza, perché poi la via giuridica rimane cancellata dalle modifiche che vi ho detto, la via politica se non si entra non hai nessun margine, nessuno spazio, nessuna visibilità e quindi cosa combini? Cioè come fai a intervenire su un sistema che comunque si è consolidato oltretutto praticamente in 30-40 anni e quindi ormai ha una sua forza assolutamente non discutibile. Pensate anche, l'ho detto più volte anche in riferimento al discorso vaccini, ad oggi come la stessa Corte Costituzionale non sia più un organismo di garanzia per la nostra Repubblica, perché la Corte Costituzionale è per due terzi di emanazione politica, un terzo dei giudici sono eletti dal Parlamento, un terzo dal Presidente della Repubblica, l'altro terzo dalle magistrature superiori, dove comunque avete visto un po' di politica c'entra anche lì. Nel momento in cui due terzi della Corte ha emanazione politica e tu sai già che hai un sistema elettorale che distorce i normali principi di rappresentatività democratica, perché non è un sistema proporzionale puro, non è un sistema che garantisce un Parlamento che sia lo specchiato della società, è evidente che sei riuscito surrettiziamente ad avere una maggioranza anche in Corte Costituzionale che ti consentirà eventualmente, anche quando porcate, come la questione dei vaccini, come le questioni di altri temi, anche a livello europeo, cessioni di sovranità e quant'altro, arrivano in Corte e questa Corte Costituzionale ti dirà va bene tutto e troverà una sentenza politica per spiegare perché questo si può fare. Quindi veramente cosa rimane del sistema di difesa democratica che ancora potremmo utilizzare? rimane davvero, davvero molto, molto poco e fino all'altro giorno ancora con la gente si cominciava a ragionare, ma si allega che 5 Stelle sono state brave nel disattivare il dissenso e quindi fare in modo che anche in questa legislatura non ci fosse una componente numerosa di persone lì che volessero fare un certo tipo di discorso. Però poi per il futuro dici dove andremo a parare? Questi hanno disattivato il dissenso, hanno fatto quello che volevano, il principio del sistema elettorale è tale che non ti consente di dare battaglia e quindi la situazione è molto, molto complicata e nel mente la magistratura dorme perché oggi c'è anche il discorso della paura che influenza anche gli stessi magistrati, come influenza il resto della popolazione che, ripeto, prima aveva iniziato a capire qualcosa, ora con il terrore del Covid si sono dimenticati di tutto il resto. Oggi il governo che fino all'altro giorno era nemico perché faceva interessi stranieri diventa amico perché ti rinchiude in casa e ti garantisce una sorta di protezione. E qui abbiamo questa assurdità che siamo pronti a rinunciare alla libertà, nell'idea, nella logica di essere un minimo protetti. Quindi ecco, in questo contesto io non è che vi porto grande, grande ottimismo, sono veramente perplesso perché le battaglie che facevamo fino all'altro giorno erano battaglie che la gente cominciava a capire. Cominciava a capire l'importanza della sovranità monetaria, cominciava a capire il funzionamento dei vincoli di bilancio, cominciava a capire come funzionava la banca centrale, cosa si doveva fare. Ora ti rendi conto che con la paura gli hanno veramente cancellato quello che era il livello di comprensione raggiunto e che cominciamo a essere disposti ad andare oltre, a colpire quei diritti fondamentali che fino all'ora cominciavano di nuovo a essere un minimo difesi, perché se c'è comprensione non vai fino in fondo nello smantellamento dei diritti principali della nostra carta, del sistema sociale e tutto il resto. Invece adesso riescono nuovamente ad accelerare, lo fanno con forza e purtroppo tanti collaborazionisti anche in Parlamento che sono entrati con certe posizioni, senza fare nomi, sapete a chi vi posso riferire, in Lega, oggi hanno votato la fiducia all'uomo di Goldman Sachs, Mario Draghi, che anche lì è qualcosa di sconcertante. Anche perché sentirmi dire da loro su Mario Draghi è un fuoriclasse e bisogna vedere in quale squadra gioca, ma Mario Draghi in quale squadra gioca? Lo sappiamo benissimo in quale squadra gioca, Mario Draghi gioca nella squadra del potere economico, è uno dei loro uomini di punta, quindi lo metti lì e continua a fare quello. Cioè gente che fino ad oggi parlava più o meno come noi su certi temi, che a un certo punto si trova a votare la fiducia a questo soggetto in Parlamento, che è quello poi che firmando la lettera 4 agosto 2011 insieme a Trichet ha causato l'avvento di Mario Monti e quella politica lacrime e sangue che ha portato alle premesse dello smantellamento finale dei nostri diritti costituzionali. Quindi insomma il quadro è un po' questo. Detto ciò, niente, lascio spazio un attimo a voi se avete qualche domanda più specifica o qualche tema che vi interessa approfondire adesso al di là dell'infarinatura generale.